Un altro lupo investito è ucciso sulla strada statale 17 nei pressi della galleria di Roccaraso. La disavventura è capitata a un sulmonese che non è riuscito ad evitare l'impatto con l'esemplare al bordo della sua Mercedes SUV. Sono stato circondato da un branco di lupi, uno di loro me lo sono ritrovato sul cofano dell'auto, racconta l'automobilista ancora sotto shock. La vettura ha riportato evidenti danni a causa del sinistro, mentre gli occupanti dell'auto, il conducente e il fratello sono usciti fortunatamente lesi senza necessità di cure ospedaliere. Per loro nessuna conseguenza dopo lo scontro con l'animale. Sul posto sono intervenuti carabinieri forestali per tutti i rilevi del caso mentre è stato allertato il servizio veterinario ASL per l'analisi e la rimozione della carcassa.